E' stata rinviata a giudizio Tania Polito, la donna di origini venezuelane che circa quattro anni fa portò via con sé in Sud America il figlio di tre anni, impedendo da allora ogni tipo di contatto con il padre Sergio Solimo, operaio di Ergon, originario del Vallo di Diano. Nella giornata di ieri il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lago Negro ha deciso per l'avvio del processo a carico della donna, accusata di sottrazione di minore all'estero e abbandono di minore. L'inchiesta infatti nacque quando la donna, che ufficialmente era partita con il figlio Francesco per il Venezuela per partecipare ad un matrimonio di un parente, decise di non far più il ritorno dal marito. Ma al primo capo di accusa si è aggiunto quello di abbandono di minore perché nel 2013 l'Apolito fece ritorno nel Vallo di Diano per prendere parte ad un'udienza per il divorzio dal marito e non portò con sé il figlio dicendo che era rimasto con la sorella. In quell'occasione dopo la denuncia di Solimo la donna venne arrestata ma riuscì ugualmente a fuggire e tornare in Venezuela. Da allora di lei e del bambino si sono perse le tracce nonostante i tribunali italiani e venezuelani abbiano dato ragione al padre a cui il bimbo che ora ha sei anni è stato affidato. Il prossimo 23 giugno si aprirà il processo a carico della donna ma intanto non si fermano le ricerche del piccolo. Solo qualche mese fa Sergio Solimo annunciò di voler destinare una ricompensa di 2000 euro a chi avrebbe ritrovato il bambino. Da allora è nato un tantam sul web che ha permesso a Solimo di intrecciare dei contatti in Venezuela e di ottenere delle foto del bambino e della donna. Ma i due non sono stati ancora rintracciati. Ormai si è perso ogni rapporto che permette al padre di parlare con il bambino anche solo via Skype ha detto l'avvocato di Solimo Enrico D'Amato. Tutte le speranze sono dunque riposte in questa mail troviamofrancescochiocciolagmail.com dove sta arrivando qualche segnalazione.